Nuovo attacco al cantiere della linea d'alta velocità Torino-Lione a Chiomonte in provincia di Torino. Nel corso della notte un assalto in piena regola al connicolo esplorativo. Nel resoconto della questura si parla di circa 30 persone, tutte a viso coperto, che attorno alle 3.15 hanno preso d'assalto il perimetro del cantiere. Un vero e proprio atto di guerra il commento del presidente della regione Piemonte Roberto Cota. Sullo stesso tono il senatore Gianni Crosio. Siamo molti preoccupati, lo abbiamo segnalato al presidente Grasso questa mattina al termine dell'aula e lo abbiamo anche segnalato al ministro dell'interno tramite un'interrogazione la nostra forte preoccupazione su quello che sta succedendo sul cantiere della TAV. I fatti di questa notte non ci lasciano tranquilli. Di fatto si è trattato di un attacco terroristico in quanto questi personaggi, questi 30 persone incappucciate e ben organizzate hanno fatto un attacco con delle bombe incendiarie più comunemente conosciute come Molotov che fanno parte, mi permetta di dirlo, di una ideologia ben chiara anche dal punto di vista politico e dei razzi sparati ad altezza d'uomo contro le forze dell'ordine che presidiano questo cantiere. Non è successo niente alle persone ma noi siamo seriamente preoccupati che con questo andazzo non vorremmo menargramo ma la situazione è veramente preoccupante perché ci sono anche degli operai che sono dei cittadini che onestamente si guadagnano da vivere in un cantiere edile e non indifferente e questo è molto preoccupante. Purtroppo c'è ancora una parte dell'opinione politica che difende queste persone e questi sono degli squadristi organizzati, ben organizzati che si lanciano contro lo Stato, contro il Paese per un'opera che è fondamentale per il nostro Paese che è collegata alla rete europea dei grandi trasporti per cui è un'opera da fare subito, siamo già in ritardo un'opera indispensabile per il nostro Paese e non è possibile che un manipolo di sciagurati metta a rischio il cantiere ma ancora di più l'incolumità delle persone.